Potevano avere conseguenze ben peggiori i due incidenti avvenuti a Piacenza a poche ore e a pochi chilometri di distanza. Due auto si sono ribaltate e fortunatamente i conducenti non sono rimasti feriti in modo grave. Il primo incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in via Motti, proseguimento di via Martiri della Resistenza. Una Fiat Punto stava procedendo in direzione stadio quando improvvisamente ha urtato un'altra punto in sosta ed è finita a ruote all'aria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Municipale che hanno avviato le indagini del caso. Stesso scenario intorno alle 16.30 in via Manzoni dove a capovolgersi è stata una Toyota Yaris che viaggiava in direzione via Colombo ed è finita contro un'auto in sosta prima di capovolgersi. In entrambi i casi i conducenti, due quarantenni piacentini, sono stati trasportati all'ospedale dalle ambulanze giunte sul posto. Fortunatamente le loro condizioni non hanno suscitato preoccupazione fra i sanitari. In via Manzoni il traffico ha subito rallentamenti. attraverso non hanno suscitato. Atraverso non l'evalistico ha avuto un'auto in